A me e me! A me e me! A me e me e me! E c'è tanto fatigato si può mangiare! A me e te! A me e te! Così non lo metta! Non perdere la fatica! E tu a me e te non lo fatica! Se no, a me e te la vai! Perché a me e te la vai! A mamma dice che cosa si pesa! E di nulla non si preoccupare! Che è il tuo problema! Pedro! Sai che ti è? Tu mangiare la fatica? Tu non stai facendo me! Achei parole! E le messe cantate! Masro! A che te provo? A voi, a voi, a voi, a voi! 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 A voi, a voi! A voi, a voi! Vi faccio male! Ehi! Ehi, guarda! Ti dico che si s'accia l'ora! Vi ne sono una cosa a te! Sì, sì! Comunque le bombelle che ci vuol stare! Che gente! Ha arrivato su l'anno regalata! Ma perché non capisco niente! Come dice a me! Entra lì! Ehi, eh! Ci perderemo sulla faccia! No! E chi è l'ora di capisco? Mi è l'ora di capisco! Se lo scompe la funziona! C'è l'ora di capisco lo vino! E' calda la stagione! Ma cosa è che ora? E' un po' il padre che ha fatto questa fredda! Non c'è nulla! Non c'è nulla che c'è l'antore! E' meglio si che ha fatto una scidia! E' quello la scidia! S'è tutta la scopro che sei una buona niente! La bambina! La bambina! La bambina che vi è la bambina! Comunque no, facciate che vedete, in questa maniera, compagno, noi siamo ancora andati a questa maniera, ora facciate le macchinette, insalatore, venga giù il mio piede, 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 stavolta si capa la struttura. Vole sembrato, come volete, che è vittorio, e il mio sapore leva la struttura, non sa giù il mio piede se volete faticare, e senti che i soldi li facite appalare. Sì, all'imparante ci vedo, ma i soldi? Ma stai dicendo tu, ma che capisci tu, quando ci trovavano l'omenico, che capisci? Buon venito, mi ha tricato, mi ha parlato di attivare. Vieni, ma che pensi tu? Tu sei che ti schimpi di essa? Che sa? E la mia metterai, vieni. E hai dato, ma ne ho saluto di certapurdo. Ah, solo di certapurdo. La pareggio è una macchina di mister. Ma, hai. Ma ne hai voglia di potere tutti? We're gagne. Ma come cosa ne ho? E facci pensare? Te facci i votanti solo. Ah, la calcaremmo le piazza delle terra, riparemmo una casa, E' buon'atta, e' buon'atta. E' fai a dimattro, ho un'occaro, E' bastano un po' di metanberra. O' barrarmo, e' bastano un po' qui è credo che è morto a noi. No! Chis! Che cazzo? Che cazzo? E' buon'è? 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 Che buona tua gente! Alla vita! E' chissà cà! Voi essi mucà, la mano si tarda! Scusi per così, Arturo! C'è il video! Se ti riesci a riferire, ci sarò vuto! Andate! E poi decidi che io sto a riferire! E se non la vedete! Eeeh! 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 S'è che cosa dice che si dice in giro? Eeeh, mettiamo una tazza rossano. Eeeh! Di lavoro! Eeeh! Eeeh! Ogni potenza ha un aumento lontano! Eh ma... Ma per esempio! Giro la valore! Eeeh! Eeeh! E... Eeeh! Eeeh! Eeeh... Eeeh! Eeeh! non posso fare si maestro Nicola che tu sono due soldi passati ormai con la sorte si si e se per me ha un piatto non l'oltre stavattino che ti ha andato e non l'oltre alcune hai capito e se Gesù Cristo è così che ogni pacco non è la madre non è sconti ma non è sconti ma non è sconti l'oltre alcune sono i giudici chi vale chi è andrea che fa ma non è senza si è sconti chi è andata non è sconti 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 Adesso, io sono giovane e voglio me lo faccio. L'altro giorno è un bel centro e il figlio doveva comprare il pezzo. E' un po' di cinque mani vestiti, e poi si prendono la cortezza senza un nuovo valente. Non ti metto a chiedere, il popolo non ti senta. Ma, stai a chiedere che sta a piccola, io mi metto, però. Guarda, lasciate me la curiosa. C'è quanto tu, no? Un signore. E' democato. E' un po' di qua. La stella, non dici che è democato. E' comunque che ti sape, che ti sape. Ma ci sape, ma ci sape. E' ci cari guarda tutto il valente. Non c'è, non c'è capire che noi votiamo. Ma non continuiamo. Ma, secondo te abbiamo tanti palesi, tanti persone. Un signore invece capire il tuo proprio nella campineria. E' qui te lo dico. E' qui, vuoi da? Beh, chiedi il nostro. Voi da mettere i ragazzi che si punta. Da un viso no ma piccolato se quando si punta. Vecchio, quando ti è mai. Chi sono giù a cosa è a dire. Portavate. ma non è così avete ragione avete ragione la tua gente e queste cose sono venuteci fuori ognuno ha un dia portato a un diazio e gli accidenti ha fatto ognuno ha fatto un diazio ma io voglio che pesce un diazio tutti italiani ma che è un diazio che è un diazio che è un diazio che è un diazio e questa parola mettiamo senza una cosa sola di cercare un bandera salutare la figlia mia che è qua devi dare il dolotto quindi vi lascio tutta la stagagnare e invece di cercare senza lo saprei io che vi cercare oh ma che si vede tu che sapete una cosa bella cosa sai e quindi comandina ho da vita mai asco vada asco vada asco vada vada il tsunami è vero magari mi ricordo a mamma sa quando era giovane sa che non c'è pena è vada l'ho 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 il l'ho l'ho No, non lo voglio. Attacchiamo. No, non lo vorrei. Non lo so, non lo so. No, non lo so. Alla prima cosa è il conto. No, no, non lo so. Alla prima cosa è la prima cosa è la prima cosa che si tratta. Alla prima cosa è la prima cosa che non lo so, aiutati. Che fai un amore? Eeeh, venga, venga! Ma ricorda che gli vuoi amore? All'oltre! 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 Ma... Ma... Va capisci lì tu, va! C'è giù un errore che li passano nella testa! Va capisci! Mastro! Mastro! Ma che c'è la mia? All'oltre! Ma che c'è lì? Ma che c'è la mia? Vanno! Ma che c'è la mia? Vanno che c'è la mia? Ma... Ma che c'è la mia? C'è la mia? Ma che c'è la mia? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.